Un saluto a tutti voi e bentornati tenorini in questo nuovo video dal vostro tenore informatico. Oggi ti vado a presentare un incredibile programmino leggero, non ha bisogno di installazione, io lo chiamo il terminator dei virus, in pratica va a terminare un virus che va a minacciare il nostro computer. E a volte sappiamo bene che questi virus, le minacce che sono nel nostro PC, non sempre si riescono a rimuovere, anche se a volte nel nostro computer è installato l'antivirus. Ecco perché viene in gioco questo incredibile programmino leggerissimo. Te lo vado subito a presentare qui nel sito di Microsoft, si chiama il ProSex Explorer, all'ultima versione 17.05. Oltre a questo il piccolo tool fa anche altre cose utili e interessanti, ma oggi vedremo l'argomento di come rimuovere una minaccia nascosta molto bene nel nostro computer Microsoft di Windows 10 e Windows 11. Come al solito andiamo a scaricare qui su Scarica ProSexplorer, facilissimo, Ti ripeto, non ha bisogno di installazione ed è un programma di Microsoft. Fatto ciò, lo troviamo come archiviato. Destro del mouse, sopra il pacchetto appena scaricato ed estrai tutto. Estrai. Dopo che è stato estratto l'archivio, all'interno troveremo alcuni file. Ce ne sono quattro, ma a noi interessano questi eseguibili. Se tu hai un computer Windows con 64 bit, devi avviare il 64.exe come amministratore importante. Oppure a 32 bit, ma la vedo dura perché ormai chi utilizza un computer a 32 bit? In questo caso devi utilizzare il .exe senza il numero 64. Bene, io avendo una macchina a 64 bit vado ad avviare il P64.exe. Lo dobbiamo avviare come amministratore. Destro del mouse esegui come amministratore. E si apre così a tutto schermo il ProSex Explorer, che per certi versi assomiglia un po' alla gestionatività di Microsoft nella questione dei processi. Per fare questa verifica, si va in alto a sinistra alla voce che dice opzioni. Proprio questa. E noi andiamo dove dice virustotal.com e check virustotal.com. Si apre un'altra schermata dove tra un po' avremo delle statistiche da 0 a 76. E cosa significa 76? In pratica è il numero di antivirus esistenti su internet. Tutti quegli antivirus che vanno a farci sapere se il nostro computer è presente una minaccia. E qui lo possiamo già notare che dice 1 su 76. Cosa significa? Che un antivirus di 75 rimanenti ha trovato una minaccia nel nostro computer. Attenzione! Non sempre significa che sia effettivamente un virus. Può essere il più delle volte un falso positivo. Cosa importante? Dobbiamo capire se riconosciamo noi stessi il programma che abbiamo installato. Ovviamente questo è un software di Intel e quindi al 99,9% non è un virus. Ma comunque 1 su 76 dice che lo è. Come andare a capire un po' quale antivirus ha trovato questa minaccia? Basta cliccare direttamente sul numero 1 su 76, si apre una pagina Chrome e qui un antivirus lo vede come minaccia. Ed è il sinette, proprio questo, quindi di Acronis e vede che secondo lui si tratta di una minaccia, proprio questa. Come punteggio scorre al 100%. Gli altri, come possiamo vedere, non lo vedono come virus ed è un elenco completo. La cosa che conta è il numero di antivirus che rilevano quella minaccia, come qui in basso. Ne troviamo 6 su 72 o poco più giù. Qui ce ne sono già 21 su 76 evidenziati con determinati colori, come il viola, il rosso proprio in allarme e quelli meno scuri che indicano che è tutto a posto nel nostro computer. Il 0,75 o il 0,76 è già un buon risultato. Ma comunque anche 1 su 76 non significa che si tratta di un virus. Ecco perché è importante sapere la fonte. In questo caso si tratta di un programma di Intel. Se fosse veramente un virus, a questo punto troviamo la minaccia elencata. E questo è un grande aiuto da parte di questo programmino perché ci fa capire tramite questo grafico, soprattutto nella quantità di antivirus che hanno trovato il virus per noi, ci fa capire che comunque 21 su 72 hanno trovato la minaccia. E qui un elenco preciso. Bene, come possiamo terminare di eliminare proprio alla radice questo virus dal nostro computer? Per fare questo, in modo molto semplice, perché io comunque so che questo è un programma che ho installato nel mio computer, ma non è detto che sia pulito al 100%. Come lo possiamo eliminare? Innanzitutto dobbiamo andare, per farti un esempio, sulla minaccia che abbiamo trovato. Se non sei sicuro della fonte e tu stesso magari dici, guarda io questo programma non l'ho installato, non lo conosco e quindi non sei sicuro, lo possiamo eliminare. Ma se invece risulta un programma che tu stesso hai installato, puoi anche tranquillamente lasciare le cose come stanno, perché non è detto che sia per forza un virus. Perché comunque la quantità su 1 su 75, come in questo caso che ho già evidenziato, non è detto che lo sia. Bene, come poterlo eliminare e terminare definitivamente dal nostro computer? Per fare questo lo devi evidenziare, poi qui doppio clic e si apre questa piccola schermatina. In questa schermata troveremo su Explorer dove è situato il programmino virus e anche la fonte di registro, dove è situato anche il virus che è proprio radicato nel registro di sistema Microsoft, proprio qui. Quindi andiamo su C-Program, File, andiamo ad aprire il Explorer, si apre questa schermata e abbiamo trovato il nostro virus. Ma a volte non è semplice, perché se clicco destro del mouse, elimina, non ce lo fa eliminare, vedi? Perché si trova come processo aperto su gestione attività. Una volta che questa schermata è aperta, devi cliccare su Kill Process per terminare in parte il virus. Clicchiamo, ok per confermare. Sparisce dal grafico praticamente il virus, non c'è più. Ecco, è sparito. Ce n'è un altro con lo stesso nome, 2 su 76. Anche qui faremo la stessa cosa. Kill Process. E viene terminato, tra un po' sparisce e devi assicurarti che non torni più. Ma come già dicevo, ciò non basta. Dobbiamo fare le cose per bene. Andiamo su Explorer. È ancora presente nel nostro computer e qui troviamo il percorso completo dove si trova il virus. Testo del mouse, elimina e finalmente il virus è stato eliminato. Se per caso capita che il virus non si riesca ad eliminare, proprio perché ancora è aperto nei processi di gestione attività, puoi fare un'altra cosa. Possiamo andare qui in basso, su Start, destro del mouse, gestione attività. Lo mettiamo qua. E poi su Digitare nome andiamo a mettere il nome, l'iniziale di questo sospetto virus. Verifichiamo cosa mettere, qui a sinistra è la paginata aperta ed è un virus, adesso è una prova, che appartiene a Samsung, anche se non lo è. Ma è giusto per capire cosa mettere. E quindi il nome che io vado a inserire nei processi delle gestioni attività, che è MSSCS. Perfetto, andiamo nuovamente su gestione attività, processi, mettiamo soltanto la parola chiave MSS ed ecco appare in background. Quindi cosa bisogna fare a questo punto? Non lo dobbiamo terminare in questo modo, terminatività, perché si ripresenta, ritorna di nuovo in funzione. Noi dobbiamo andare qui su Samsung, il nome dell'antivirus, e semplicemente arrestare il servizio. E a questo punto, così facendo, avremo eliminato alla radice, o quasi, il virus. Infatti, aprendo Explorer, non appare più la cartella, proprio perché è stata eliminata definitivamente. Questo lo dovete fare soltanto se non riuscite a eliminarla tramite Explorer, come abbiamo visto prima. Altra cosa importante è che, anche se abbiamo eliminato quasi del tutto il virus, e dico quasi, ci potrebbe essere ancora una traccia. E parlo di tracce nel registro di Windows. Qui in basso troviamo la chiave di registro, dove è situato il virus, si clicca Explorer, e verremo portati immediatamente nella voce di registro del virus. Proprio questo, destro del mouse, ed elimina. Prima di fare questa eliminazione del registro, create sempre un punto di ripristino. Vi lascerò nella descrizione come creare facilmente un punto di ripristino, in caso, se ci sono problemi, potete ripristinare il registro come era prima. Cosa posso dire? Siamo giunti alla fine di questo video. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate qui in basso nella sezione dei commenti. Spero che questo video ti sia stato utile. Mi raccomando, lascia un mi piace a questo video, e ti ricordo, come sempre, l'iscrizione al canale di Tenore Informatico. Noi ci vediamo alla prossima da Tenore Informatico. Ciao a tutti!